gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questa edizione di tele italia sondaggio ipsos di nando pagnoncelli che il suo presidente per il corriere della sera il sondaggio è stato principalmente fatto sulla prescrizione che cos'è la prescrizione quando passa un certo tempo voi non siete più processabili per quello che vi additano e questa è detta in maniera molto semplice la prescrizione che il governo ha cancellato cioè adesso in poi il processo può durare per l'eternità e anche di più e anche se siete innocenti potete essere dichiarati colpevole anche dopo 40 anni 50 anni ma vediamo la prima domanda che è stata fatta agli intervistati lo scorso primo gennaio è entrata in vigore la riforma della prescrizione lei era a conoscenza di questa riforma il 40 per cento la maggioranza risponde sì la conosco nelle sue linee generali il 36 per cento dice ne ho solo sentito parlare il 19 per cento dice non ne ho mai sentito parlare il 5 per cento dice sì la conosco nei dettagli quindi la maggioranza dice la conosco così in linea generale passiamo alla seconda domanda del di ipsos è stata questa a proposito della prescrizione con quale di queste due frasi è più d'accordo allora il 57 per cento risponde la prescrizione spesso consente ai colpevoli di evitare la condanna è meglio toglierla o allungarla questo il 57 per cento la maggioranza mentre il 23 per cento non sa il 20 per cento dice che la prescrizione è una garanzia per gli imputati che altrimenti rischiano di restare sotto processo per un tempo lunghissimo passiamo all'altra un'altra domanda vediamo è stato posta questa quale di queste due opinioni condivide maggiormente allora il 49 per cento dice lo stop della prescrizione restituisce un maggior certezza della pena dando al processo una maggiore efficacia mentre il 26 per cento dice non so e il 25 per cento dice lo stop alla prescrizione rischia di determinare una perdita di efficienza degli uffici giudiziari con un aumento di processi lunghi l'ultima domanda che è stata fatta è questa lei ritiene che un'eventuale crisi di governo il 32 per cento dice sarebbe negativa meglio che il governo vada avanti il 26 per cento dice sarebbe molto positiva è un governo non adatto per il paese il 19 per cento dice tutto sommato sarebbe meglio per quanto abbia fatto anche cose buone le divisioni ormai sono troppe non sano indica il 23 per cento qui sommando le due risposte negative abbiamo un 39 un 45 per cento che risponde che sarebbe meglio che il governo vada a casa a differenza di un 32 che dice che sarebbe negativa meglio che il governo vada avanti io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita comporta solo un aiuto al canale ad essere più visibile e nella community potete trovare tanti sondaggi che potete condividere con chiunque voi vogliate siamo anche in facebook nella pagina tele italia dove trovate tutti gli stessi video presenti in youtube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci